Riccione Preview è una manifestazione che distingue Riccione dalle altre città, è una manifestazione molto bella e molto interessante. La moda è sempre una cosa che piace alla gente e Riccione deve piacere molto alla gente. Riccione è come un film, è tutto da guardare. Uniti tutti insieme per Riccione è stata un'esperienza bellissima. Riccione, uno spumeggiante stile di vita. Riccione è veramente la città delle stelle. È stata un'esperienza fantastica, ci siamo divertite tantissimo. Riccione non la cambierei con nessuna città dell'ultimo. Riccione, un'esperienza molto bella. Riccione è anteprima, per cui moda, design, arte, cultura, tutto in anteprima a Riccione.